A volte il disperato appello ad ogni singolo cristiano. A volte un'usaggina salto e un'usaggina salto e un'usaggina salto. A volte c'è stata un'abbalasca. Mi stava girando ancora un po' e il 10 a sera ci vedo un tesoro. E poi un pallo della famiglia di colo solo. Ti avessi mandati un piccino sui dosi. Se girano dosi. Poi quando si ferma? Ma che non sai quando si ferma? No, non è poco si ferma. Non c'è fermato io. Non c'è vista. Allora oggi non c'è ma ragione. Non c'è vero ragione niente. Non c'è vero ragione. Non c'è vero che mi ci riovanò. Però come possiamo andare a tavola? Quali sono i alimenti da preferire? che soffriamo di storia che sono molto di una persona la storia spesso si accompagna alla famosa sindrome metabolica aumento di peso, colesterolo 13 anni di alti predisposizione al diabete, ipertensione quindi sale ridotto carni rosse ridotte in qualche modo i condimenti i grassi idrogenati ecco questo fidget spinner questo piccolo oggetto che ruota viene fatto girare grazie a un cuscinetto interno con la spinta delle dita è quello fidget spinner che sta diventato in America grazie a tutti ora circa due minuti grazie a tutti 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 se già è il solito vederti grazie a tutti